Buonanile, impreghiamo le società Castelfranco Medico, Provancelli e Trevestri a Casale in presentarsi davanti al cuore. Trezza classificata, club schermo a Casale con Maria Anita Brustano Serena Marcini, Irana Cora Marza e Giulia Marzoni Serena è il signore del nostro compito, campione olimpiologico di torno del 64, abito agli olimpiadi e pugilato categoria prossima. Certamente. Il signor Quinto consiede la coppa del Trezzo classificato al club scritto a Casale Scelico Medico, istruttore nazionale signora Campania con la nuova versione di Mimini Francesco! Sì, prendiamo noi, eh! Sì, prendiamo la parola Francesco! Vai, Camilo! Francesco! Sì, bravo! Allora, come stiamo? Ricciare il premio ecco, scusate, scusate, scusate seconda classificata associazione schermo a progetti cieli con Federica Iso Francesca Mario Brava! Alessia Barocca Brava! E Alice Fruini Brava! Ma c'è una bella frase Brava! 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 Bravissime! Grazie. 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 Grazie a tutti.